Ciao ragazze, benvenuti nella lezione numero 6. Oggi parleremo di forma breve degli aggettivi russi. Naturalmente dobbiamo sapere che soltanto gli aggettivi qualificativi hanno la forma breve e cambiando la forma si cambia anche la domanda. Le domande sono così, se c'erano prima per i maschili kakoi, adesso sarebbe kakov. Per femminili kakaia, in forma breve kakavà. Per neutri kakoye, in forma breve kakavò. E per plurale kakie, si cambia la domanda, sarebbe kakavì. Questi domandi nella pagina numero 2 dovete ricordare. Poi, che cosa dobbiamo sapere altro? Come si ottiene la forma breve? Semplicissimo. Nei alcuni coricini ci sono le desinenze. Dobbiamo ricordare come fosse una persona andata in palestra a perdere chili, così anche aggettivi come sono troppo lunghi in russo, hanno deciso di dimagrire un po' perdendo le desinenze. E allora semplicissimo ricordate che perdendo le desinenze si ottiene la forma breve. Andiamo a conoscerli. Queste desinenze che sono davanti voi vanno persi. Naturalmente in colore blu maschili, rossi femminili, verdi neutri e viola a plurale. Questi, ricordate, vanno persi. Vediamo alcuni esempi per capirci meglio. La parola bello, che conosciamo già, красивi. Perdiamo la desinenza e si ottiene красивo. E già una forma breve dell'aggettivo maschile. Un altro esempio per approfondire. Buono. хорошi, con desinenza i, perché dopo si bilanze si scrive la i, no? E allora per maschili togliamo la i e sarebbe хорош. Togliamo. Allora, хорошa, ya. Perdiamo la ya. in questo caso una piccola eccezione sarebbe harasho. Haroshie al plurale si perde la i e sarebbe harashi. Ricapitoliamo. Per i maschili si tolgono tutti i desinenzi o oi 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 tutti, entrambi le lettere. Invece per femminili si perde una lettera sola, ultima. Se c'era desinenza a, ya, perdiamo la ya. Per neutri in stesso modo, se c'era oie si perde ultima i e per plurale stessa cosa. I, i, i perdiamo i e, i, i perdiamo i e rimarranno i e i. Queste desinenze che sono rimasti davanti voi, rimarranno. Insomma, maschili perdono entrambi le lettere e femminili, neutri e plurali, una lettera sola. Finale. Vediamo alcuni esempi per approfondire quello, ciò che dico. aggettivo forte, ragazzo forte, parin silni. Abbiamo detto prima, nella lezione precedente, al sostantivo si fa la domanda per scoprire quale desinenza dobbiamo mettere all'aggettivo. parin kakoi silni, desinenza i, maschile. Per creare forma breve si mette la domanda kakov, parin kakov silion. Cosa si cambia in questo caso? Quando creiamo aggettivo di forma breve, prima va al sostantivo e poi segue aggettivo in forma breve. E questo una piccola particolarità. vediamo altro esempio. Ad esempio, polnaia carzina, cistino pieno. Carzina kakaja, polnaia. Naturalmente non vi ripeto più le desinenze, sapete già, no? Che questo per femminili. Oppure, carzina kakava, polna. In aggettivo polna cosa abbiamo perso? Soltanto una lettera ultima, ya. Guardate a sinistra. Qui, polnaia. Perdiamo la ya in colore nero e si ottene polna. Ok? Oppure, altro esempio. Cresiva je platie. Si termina con je. Allora, desinenza per neutrino. Platie kakoi je. Cresivo je. Cosa abbiamo detto? Che si perde solamente ultima lettera della desinenza. qui, o je in questo caso. E cosa sarebbe? Platie, abito. Cresivo. Senza je. Cacavo. La domanda cacavo. Cresivo. Vedete? C'era. Cresivo je. In forma breve. Cresivo. Vediamo per plurali basse. Io non traduco, no? Tanto voi vedete. nischi je. Al plurale, nuvole basse. Ablaka. Cacchie nischie. Questa domanda per forma lunga. Invece, per creare la domanda breve, si fa ablaka cacavì. Nischie. Vedete? Cosa abbiamo perso qui? Nischie. Abbiamo perso je. In forma breve sarebbe nischi. Senza je. Va bene. Sì l'on, palna, crassiva, nischi. Qui abbiamo perso i, qui ja, je, je. Spesso si inseriscono lettere je o je. In quale caso? Quando, togliendo la desinenza, io spiego con parole semplici, togliendo la desinenza dai maschili, rimarranno due consonanti. Tra di loro si dovrebbe mettersi o je o una jo. Oppure, si mette la o se termina in k. Che significa? Abbiamo tolto la desinenza dall'aggettivo maschile e tra due desinenze, ultima lettera k. Tra k e altra consonante, si metterà la lettera o. Vediamo esempi per capirci un po'. Parola jasnei. Chiaro, no? Se togliamo la desinenza ui, rimane jasn e qui, tra di questa consonante e questa consonante. Tra di loro si mette la je. Oppure altro esempio, trudni. Togliamo la ui per ottenere forma breve e tra d e n ci mette la je. Trudien. Altro esempio, umni. Togliamo desinenza ui, rimarrà umn e tra u, o tra em e en si mette la jo umion. Insomma, per i maschile solamente, se togliamo la desinenza e rimarranno due consonanti attaccati, un altro, tra di loro si mette o je o jo. Invece, se togliamo la desinenza ancora ai maschili e rimane due consonanti finali, tra quale una di loro termina in k, allora ultima lettera k, diciamo con parole semplici, tra di loro si mette la lettera o. Vediamo altro esempio. Questa sarebbe karotkii, karatok. Gromkii, togliamo ii e rimane gromk. Ma non esiste parola così. E tra m e k si mette la lettera o. Gromok. Insomma, togliamo la desinenza dal aggettivo maschile e tra due consonanti qualsiasi si mette je o jo, a se termina con a, k si mette la o. Esistono due aggettivi da ricordare che non hanno una propria forma breve. Queste sono parole piccolo, mau, e grande, vilik. Piccolo, in russo, viene chiamato malinki. Se togliamo desinenza ii, rimane malink, non esiste parola. Proviene da parola malii. Togliamo ii e rimane mal. E parola grande, aggettivo grande, balchoi, anche se togliamo oi non esiste bolch. E allora proviene da un altro aggettivo vilikij. Togliamo ii e sarebbe vilik. Vilik e mal. Andate da una commessa, avete provato una gonna e dite che sono piccola, no? Iupka, gonna, malà. Naturalmente, vedete se mal per maschili, malà per femminili, malò per neutri e malii per plurale. In stesso modo, vilik per maschili, vilikà per femminili, vilikò per neutri e vilikij per plurale. Che cosa dobbiamo sapere? Che la forma breve si distingue per genere e numero. Non si declina per il caso. Naturalmente, per il numero, singolare, plurale e singolare per il genere, maschili, femminili e neutri. Non si declina per il caso. Vediamo altri esempi per approfondire, per ricordare un attimo. Prendiamo la parola interessante. Togliamo la desinenza ii. E cosa ci vuole qui tra due consonanti? Prendiamo altra parola, profondo. Togliamo desinenza ii e rimane glubok. Qui, vedete, se non c'era o, ci sarebbe, no? Ci vuole qui una o. Perché termina con k. Ma come esiste già, non facciamo niente. Abbiamo tolto desinenza e a posto così. Vediamo alcuni esempi per i maschili. Mi raccomando, guardate. La parola veloce, un esempio. B-st-ry. Togliamo desinenza ii e sarebbe b-str. Oppure pulito. C-st-y. Togliamo desinenza e rimane c-st. Buono. Dobry. Dobry. Togliamo la desinenza. Dobr. Largo. Scirochi. Togliamo la desinenza. Sciroc. Debole. Slaby. Senza desinenza, in forma breve. Slab. Da questi, tutta forma breve in maschile, possiamo subito creare, anche cambiando genere, un femminile, ad esempio. Aggiungiamo la a, senza ii, mi raccomando. B-st-r-a, ci-st-a, da-br-a, sci-ra-ca, sl-a-ba. Creiamo un neutro. Aggiungiamo soltanto o, da-br-o, b-st-r-o, ci-st-o, sci-ra-co, sl-a-bo. E per plurale, in stesso modo. Aggiungiamo o-i, o-i. Naturalmente i si scrive dopo k, in questo caso, no? O-š, ci-š, j-š. Allora, b-st-r-i, ci-st-i, da-br-i, sci-ra-ci-i, con-i, sl-a-b-i. Per i femminili, ricordiamo che i femminili terminano in a-ia e i-ia-ia. Cosa succede? Dobbiamo togliere questa ultima lettera-ia. Vediamo esempi. Debole. Sl-a-ba-ia. Si perde la-ia. E diventa sl-a-ba. Larga. Sci-ro-ca-ia. La-gonna larga, no? Sci-ra-ca-a. Potete dire a una commessa. La-gonna è larga. I-up-ca-ci-ra-ca-a. Ok? E per neutri. Vediamo alcuni esempi. Come neutri. Si terminano in o-ie e i-ie. Si perde solo una lettera. Esempie. Pulito. Ci-sto-ie. Togliamo-ie. Ci-sto. Trudna-ie. Difficile. Trudno. Malo-ie. Piccolo. Malo. Ok? E per plurali, come oggi è la Pasqua. Ho messo un uovo di Pasqua. Vi auguro tutti di buon anno. Buone feste. Vediamo i plurali. Vediamo alcuni esempi. Come per plurali, desinenzi i-ie, i-ie, si perde solo ultima lettera. Um-ni-ie, si toglie-ie, um-ni, intelligenti. Carot-chi-ie, corti, carot-chi. Avete capito, no? Hanno solo o forma lunga o forma breve, soltanto questi aggettivi. Progressivo. Peri da voi, se togliamo desinenzi, la parola non esiste, peri dov. Ok? O colore lilla, sirenevi, o furioso, zliusci, rachitico, ciachli, elegante, nariadni. Insomma, da queste cinque parole, se togliamo desinenzi, queste parole non esistono in forma breve. Non tutti sono riusciti a dimagrire. E invece ci sono, quante sono qui? Sette, no? Parole di forma breve, che si usano soltanto in forma breve. Ad esempio, contento. Sono contento di vedervi. Rat vidit vas. Rat, ja, rat. Sono contento. Parola rad. È in grado di garast. Bisogno di nadabin. Hai ragione. Prav. Hai ragione, tu. Ti, prav. Ok? Devi, dolgen. Obbligato, abiasan. Intende, namirin. E amato, lub. Ricordate queste parole. Poi cosa dobbiamo sapere? Che, ancora maschile qui, non si scrive mai segno molle dopo i sibilanti negli aggettivi maschili in forma breve. Soltan hanno perso questa capacità di avere dopo similanti segno molle. qualsiasi parola. Qualsiasi parola, ad esempio, caliù, ci, togliamo, disinenza, i, sarà caliù, ci, sembra che servirebbe segno molle. No, per maschile non si scrive mai. Caliù, magù, giù, 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 giù. Togliamo disinenza e non aggiungiamo mai segno molle. Vi ringrazio, come oggi la festa, sono stata anche io un po' breve. Vi auguro di buona giornata, grazie per avermi ascoltato. Se vi è piaciuto il video, mettetemi like, iscrivetevi al canale, studiate bene la lingua, vi aspetto numerosi. Ciao ragazzi!